Qua siamo in una zona, un'altra parte del nostro lavoro nel tessuto storico di Trino, dove abbiamo ripensato i percorsi pedonali interni agli isolati, riproponendo una pavimentazione nuova, aggiornata, con materiali tradizionali, ma con un disegno un pochino più innovativo rispetto ai pavimentazioni precedenti. Questo è un esempio di come abbiamo dialogato con la sovrintendenza, che aveva molta attenzione rispetto alla conservazione di una serie di tradizioni e di valori della storia importante di Trino, e quindi abbiamo trovato un compromesso, se posso dire, fra il nostro desiderio di proporre un disegno più contemporaneo e magari con dei materiali anche più inusuali, più inattesi rispetto alla pavimentazione di un centro medievale, e il desiderio della sovrintendenza invece di esercitare un controllo molto forte nella direzione di una continuità con i materiali storici. Quindi questo disegno di pavimento, come in altre parti della città di Trino, del nostro intervento, è frutto di questo compromesso, di questo accordo, di questo lavoro insieme. Alle mie spalle si vede anche in scorcio una parte di un edificio storico che abbiamo restaurato, ricostruendone anche il suo interno ad uso di servizi pubblici, aule di formazione per la città di Trino e per la provincia di Vercelli. Qui siamo in un altro ambito del centro storico di Trino ed è il luogo della parrocchia, il cortile della parrocchia, dove avevamo il problema da risolvere, di sistemare alcuni automobili della parrocchia e delle sue circostanze e di dare uno spazio più organizzato ai giovani per fare dei giochi o dello sport. Allora abbiamo pensato di sovrapporre un basso parcheggio sotto e sulla copertura del parcheggio di realizzare questo campetto sportivo che abbiamo cintato, abbiamo rinchiuso, evidentemente per ragioni di sicurezza, di controllo dei palloni, con un grigliato che è realizzato con una rete in acciaio inox. Il pavimento in gomma con un colore abbastanza vivace, quindi lo spazio poi, pur essendo una cosa tutto sommato povera, è molto semplice e abbastanza gradevole. Sul lato della struttura una gradonata che serve sia per salire al di sopra per chi vuole giocare nel campetto, sia come gradonata per sedersi, come fosse una specie di piccolo anfiteatro, dal quale i ragazzi magari dopo la partitella o aver giocato possono stare seduti a chiacchierare o a guardare quegli altri che giocano nello spazio sottostante, quindi come dire uno spazio articolato per il gioco, col tempo libero, i ragazzi di Trino-Vercellese.